Buonasera un saluto a tutti gli amici di Artforum che ci seguono, almeno così ci vedranno sulla tv online, una piccola intervista al nostro amico Mauro, per sapere cosa pensava di Artforum? Penso un bel sito per giovani. Era già stato su internet su questo sito? Sì, sì, sì. Un sacco di volte, tanto che è il sito più gettonato in Italia, visto ovunque, dai più giovani in avanti. Vogliamo fare un saluto insieme. Ciao Artforum!